24 maggio. Il mio cuore si smarrisce. Isaia 21 4. Un cuore smarrito. La condizione e la prospettiva per chi si sente smarrito nel cuore è particolarmente dolorosa e difficile. I fattori che possono generare lo smarrimento dell'anima possono essere tanti e diversi. Le difficoltà della vita che non risparmiano nessuno, un'improvvisa e grave malattia, trovarsi in prigione per errori commessi, incomprensioni e liti coniugali, gravi problemi familiari, la mancanza di lavoro, problemi economici e tante altre cose producono lo smarrimento del cuore. Caro amico, se tu stai soffrendo per delle grosse difficoltà che stai incontrando, non sai cosa fare e come risolvere i tuoi problemi, sappi che Dio è pronto a soccorrerti e a prendersi cura di te. Il Signore desidera aiutarti come nessun altro sa fare. Vai a Lui e rivolgigli una sincera preghiera. Affidati a Lui con tutto il cuore e aspetta fiducioso la sua opera in tuo favore. Dio non ti deluderà e il tuo cuore non sarà più smarrito, ma sereno e riconoscente verso colui che avrà operato in tuo favore.